ragazze ragazze di promessa e debito eccolo qua al pacco allora questo è appena arrivato guardate qui con il nostro logo della fantastica boutique ioana allora vediamo vediamo vedete che non l'ho nemmeno ancora aperto è proprio prendo con voi no allora eccolo qua lo stardust quello verde acqua che vi avevo detto che è quello che metterò insieme alla stola quella con la mattonella poi questo qui l'ho ordinato perché ho un ideona mi è venuta in mente una cosa che poi vi dirò prima fatemela mettere in opera e poi eccole qua eccole 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 allora una guardate che meraviglia che sono e due guardate che meraviglia che sono creative cotton degradé questa qui è fantastica questa qui è fantastica meravigliosa questa qui questa è per finire la maglietta poi questi qua che poi vi dirò che cosa mi è venuto in mente di farci è il mohair reed è bellissimo questo filato qua e il mio meraviglioso stardust verde acqua eccolo qua e poi perché mi mancavano queste qua erano le uniche punte che mi mancavano il tre e mezzo quindi è arrivato tutto ok allora questo è il mio pacchetto di oggi l'ho condiviso con voi sono stra felice ora stasera provo a fare le mattonelle con questo e il laur tribe e poi vi metto il le foto no una meraviglia ragazze non potete capire i colori i colori ciao ragazze un bacio ciao ciao ciao